Strade allegate, disagi nei trasporti, ma per fortuna nessun ferito. Questo è il bilancio dopo la bomba d'acqua che ieri si è abbattuta nella nostra regione ed in particolare nella fascia ionica della provincia di Reggio. Forti disagi a Gallico e Condofuri. Aggressione fisica nei confronti del segretario della sezione PD di Melito Portosalvo, Tino Laganà, nel corso di un coordinamento dei segretari dell'area grecanica e degli amministratori locali. Colpito alla testa e stato successivamente medicato al pronto soccorso. Denunciato l'aggressore. L'Aido, Associazione Italiana Donatori Organi, sezione di Locri, si presenta ai cittadini con un incontro dal titolo Donatori di Organi, Donatori di Vita. Dieci studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Cuneo, sono stati in visita nelle aree agricole della provincia di Reggio Calabria ed in particolare nell'area grecanica alla scoperta di alcuni nostri prodotti. Bene, è venerdì 26 settembre e questa è l'edizione del Tg Melito. Ben trovati in questa nuova edizione del nostro telegiornale. Strade allegate, disagi nei trasporti, ma per fortuna nessun ferito. Questo è il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta ieri nella provincia di Reggio Calabria, in particolare nell'area grecanica. Condofuri e Reggio Calabria, Nord Gallico, le città maggiormente colpite con i maggiori disagi. Ma ci racconta di più in questo servizio Lidia Zumbo. È stata una pioggia particolarmente intensa, anche se non certo eccezionale, quella che nella giornata di ieri ha colpito la provincia di Reggio Calabria, tra le 6 del mattino fino a mezzogiorno, con un picco particolarmente intenso attorno alle ore 9. Solo a Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria, sono caduti 30 mm di pioggia. I disagi maggiori nella zona nord della città di Reggio, in particolare a Gallico, dove il lungomare è rimasto completamente allagato. Disaggi e problemi anche nelle città di Locri e Siderno, pesanti ripercussioni al traffico cittadino anche a Condofuri, il cui bivio era completamente sommerso dall'acqua piovana. Ha causato non pochi problemi ai giovani studenti dell'Istituto Alberghiero. Quello di Condofuri è un problema che si ripete da più di un decennio, sempre nello stesso luogo, quando le precipitazioni non hanno il semplice carattere di una lieve pioggerellina. Ma vediamo cosa ci prospetta il meteo nel fine settimana. Domani nuvolosità irregolare con locali rovesci su Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio possibili residui rovesci sui settori ionici e solo un po' di nuvole altrove. Domenica tempo prevalentemente soleggiato. E adesso una pagina non molto felice di cronaca, perché è stato aggredito fisicamente il segretario della sezione PD di Melito Portosalvo, Tino Laganà, nel corso di un coordinamento dei segretari dell'area grecanica e degli amministratori, per discutere sulle eventuali candidature che il territorio potrebbe, scusate, esprimere. Coordinamento convocato dalla segreteria provinciale. Nel corso dell'incontro si è presentato presso la sede democratica melitese un ex tesserato, il quale si è scagliato contro il segretario del circolo PD, Laganà, colpendolo violentemente alla nuca, tanto da rendersi necessario il passaggio dal pronto soccorso per effettuare i dovuti a certamente, comunque, la medicazione, come si fa ovviamente in questi casi. Questo gesto vile è accaduto, afferma il segretario Tino Laganà, è anche figlio di chi accende gli animi nel nostro territorio anziché privilegiare la via del dialogo costruttivo. Pertanto, invito tutti ad una serena riflessione in casa propria, evitando di fomentare polemiche giornaliere che tendono purtroppo a sfociare in gesti di questo tipo. L'aggressore, ovviamente, è stato denunciato alle autorità competenti. E adesso andiamo avanti, voltiamo pagina perché l'Aido, Associazione Italiana Donatori Organi, sezione di Locri, quindi ci troviamo ovviamente nell'area della Locri, si presenta ai cittadini con un incontro dal titolo Donatori di Organi, Donatori di Vita. Ma vediamo i dettagli in questo servizio. Domenica prossima, 28 settembre, il Palazzo della Cultura di Locri, in Via Trieste, ospiterà l'incontro dibattito sul tema Donatori di Organi, Donatori di Vita, promosso dal gruppo comunale di Locri dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, Aido. Ricostituitosi pochi mesi orsono, il gruppo Aido, Locri, intende così presentare ai cittadini e alle istituzioni dell'intera Locri, organizzando un momento informativo e di confronto sulle tematiche legate all'attività dell'Associazione e alle prossime iniziative in cantiere, partendo dalla sensibilizzazione sull'opportunità e le motivazioni per diventare donatori di organi. Ad aprire i lavori alle 10 sarà il presidente dell'Aido, Locri, Vito Aversa, che incentrerà il proprio intervento sull'importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. Seguiranno quindi i saluti del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, e del consigliere dell'Aido. Toccherà infine al dottore Francesco Adamo, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimersione dell'ospedale di Locri, e al dottor Pellegrino Mancini, direttore del centro regionale Trapianti, affrontare nello specifico la questione della donazione di organi, sulla base della loro pluriennale esperienza sanitaria. Reggio Calabria, la squadra mobile, ha fermato quattro persone con l'accusa di essere gli scafisti delle imbarcazioni a bordo delle quali si trovavano i 774 migranti soccorsi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, giunti ieri in città a bordo della nave della Marina Militare San Giusto. Erano già stati individuati ieri questi personaggi, queste persone, ma ne è stata data la conferma, sono proprio loro gli scafisti e quindi sono stati arrestati, anche grazie alle testimonianze raccolte che hanno fatto emergere tutto il quadro della situazione. Infatti è emerso che i migranti partiti tra il 21 ed il 22 di settembre dalle coste libiche ed egiziane hanno pagato i membri dell'associazione distinte somme di denaro, una quota quale corrispettivo del viaggio su terra per raggiungere i luoghi di partenza, e quindi l'Egitto e la Libia, ed una quota quale corrispettivo del viaggio marittimo fino alle coste italiane. L'importo complessivo è compreso tra le 2.000 e le 3.000 dollari per il viaggio che li avrebbe condotti per l'appunto fino ai nostri territori e quindi arrestati e assicurati alla giustizia i quattro scafisti. E cambiamo decisamente argomento perché 10 studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, provincia di Cuneo, sono stati in visita nelle aree agricole dell'area agrocanica della provincia di Reggio Calabria alla scoperta di alcuni nostri prodotti. Per la condotta Reggio Calabria Agrocanica di Slow Food, questo terzo viaggio didattico rappresenta una nuova tappa del percorso di collaborazione avviato nel 2009 con l'Ateneo Piemontese. Il gruppo, formato da 10 ragazzi e da una tutor, ha visitato diversi luoghi, tra cui la comunità del Bergamotto presso l'agriturismo, il Bergamotto di Amendolea, dove sono stati accompagnati alla scoperta delle rigoiose piantagioni, dei loro frutti e della storia economica giusto locale ed essi legata. Con l'attenta supervisione del pasticcere Angelo Musolino hanno avuto inoltre la possibilità di partecipare attivamente a un laboratorio sull'utilizzo dell'agrume, del Bergamotto, che cresce solo nella nostra area, anche in pasticceria. Hanno visitato poi il presidio del Capicollo Aze Anca grecanico, visitando gli allevamenti di Suino Nero a Bova, presso l'azienda agricola San Leo, per conoscerne le fasi di produzione presso l'azienda agricola, poi Agririgio di Lazzaro. E abbiamo ascoltato Cristina Ciccone, fiduciaria della condotta Slow Food dell'area grecanica, e Federica Pozzi dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Cuneo le ha intervistate per noi. Francesca Martino. Ci troviamo all'agriturismo, il Bergamotto, Amendolea, qui a Condofuri. E accanto a me Cristina Ciccone, fiduciaria della condotta Slow Food dell'area grecanica, buonasera. Buonasera. E Federica Pozzi, tutor dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in provincia di Cuneo. Buonasera. Buonasera. Allora, è stata una giornata meravigliosa. Abbiamo avuto modo di fare un viaggio tra gusti e odori. Abbiamo avuto modo di assaggiare la pasta fatta con il grano, diverse tipologie, anche sentire l'odore del bergamotto. E questa sera in particolar modo abbiamo visto come si fa anche una crema al bergamotto fatta magistralmente dalla pasticcere. E questo evento, grazie alla Slow Food, vorrei chiederle come è nata la collaborazione Slow Food e l'Università. Allora, l'Università è Slow Food, l'Università di Scienze Gastronomiche è Slow Food. È stato scelto per la seconda volta un itinerario, un viaggio, nella provincia di Reggio Calabria. Noi abbiamo iniziato questa collaborazione come condotta nel 2009 e quest'anno ci è stata riproposta la possibilità di avere nel nostro territorio gli studenti di Scienze Gastronomiche. E per questo io ringrazio l'Università e ringrazio la tutor Federica con la quale abbiamo lavorato. Questa volta la novità è stata che a lavorare sul territorio per questi ragazzi sono state tre condotte, quindi in sinergia tre condotte, quindi tre fratelli di un'unica famiglia che è quella di Slow Food, hanno operato assieme per cercare di far conoscere il nostro territorio, come dire, di cose da vedere e da conoscere ce n'erano veramente tante, belle. Però noi abbiamo dovuto anche tener conto degli obiettivi didattici degli studenti, quindi questo ha portato alla definizione di un programma, con tutto quello che voi avete visto e che domani si concluderà. Io vorrei approfittare per ringraziare appunto l'Università, Federica, i ragazzi che hanno dimostrato grande interesse e grande serietà durante tutto il viaggio e durante tutti i momenti di questo viaggio di studi. Vorrei ringraziare i componenti del comitato della mia condotta perché tutti hanno lavorato da mesi e in questi giorni abbiamo fatto da staffetta tre condotte con i tre comitati per cercare di dare il meglio a questi ragazzi e poi tutti coloro che hanno aperto le loro aziende, ma Federica l'ha visto il loro cuore nel far conoscere la nostra terra. Il prossimo anno ci sarà un altro evento di questo genere? Noi ce l'auguriamo e se è andata bene, così come è andata nel 2009, penso di sì, spero di sì. Un bilancio di questa giornata? Dunque, questa giornata come tutte le altre giornate che abbiamo trascorso qui nella provincia di Reggio Calabria è stata molto interessante, abbiamo avuto modo di fare delle esperienze gastronomiche i ragazzi hanno conosciuto delle produzioni molto particolari legate al territorio della Calabria ma la cosa che mi ha colpito di più e credo anche i ragazzi è stato il lato umano dell'esperienza perché in tutte e tre le condotte, quindi in tutte e tre le aree della provincia di Reggio Calabria siamo stati sempre accolti a braccia aperte e abbiamo avuto modo di conoscere oltre alle produzioni, quindi i prodotti gastronomici, delle persone di cuore che hanno molto a cuore, tengono molto a promuovere il loro territorio e a vivere con passione quello che fanno nella loro vita. Domani si concluderà l'evento, dove sarà il posto? Allora, domani visiteremo il borgo di Pente d'Attilo prima e poi andremo a visitare il presidio della Zianca per vedere la produzione di Capicollo. E come si svolgerà l'evento? Ma come tutti gli eventi devo dire che io mi affido molto ai produttori che con un loro buon senso sanno trasportarci nella loro produzione facendoci vedere tutti gli aspetti importanti di quello che è la filiera e come oggi Ugo Sergi ci ha fatto vedere i suoi bergamotteti e ci ha raccontato quello che è la produzione di bergamotto domani sicuramente Agri Riggio saprà fare esattamente la stessa cosa è più una sorpresa che un programma studiato nei dettagli. Prima di passare allo sport una breve di cronaca. I carabinieri della stazione di Archie nel Regino hanno arrestato Francesco Geria per evasione l'uomo deve scontare una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio ed in materia di armi commessi a Reggio Calabria nel maggio del lontano 2010. E adesso passiamo al calcio. Il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica all'allenatore della regina Francesco Cozza punito per aver pronunciato espressioni blasfeme. Alla regina è stata inoltre inflitta un'ammenda di 3.000 euro perché si legge nel comunicato i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni gli stessi nel corso del primo tempo ed una volta nel secondo tempo intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell'ordine. Decisione del giudice sportivo a parte, la regina affronta in campo una Juve Stabia che come gli Amaranto speravano in un inizio completamente diverso. La regina riparte dall'ultimo pareggio tenuto e dalla consapevolezza di dover migliorare ancora tanto per competere con le big del campionato. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Restate con noi qui su Telemelito. Buon proseguimento.